21 Novembre 2012. Da verso la nuova creazione a cura di Stefania Caterina. Alfa e Omega. Messaggio di San Michele Arcangelo. Pace a voi, fratelli e sorelle della Terra, chiamate e servite Dio Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. Ancora una volta Dio mi manda a voi per aiutarvi a comprendere il cammino di questi tempi. L'anno 2012 sta per terminare, è stato un anno cruciale di scelte decisive per tutta l'umanità, particolarmente per quella della Terra. Rimane ancora poco tempo, durante il quale l'azione di Dio si farà ancora più intensa nelle anime, al fine di portare quanti più uomini possibili a scegliere Gesù Cristo e, attraverso di Lui, a scegliere il vero e unico Dio, Signore dell'intero universo. In questo anno, lo Spirito Santo ha chiamato incessantemente uomini e donne di ogni pianeta, agendo nella profondità di ciascuno, per aiutare tutti a scegliere Gesù Cristo e prepararsi così agli eventi, che attendono tutti noi. A partire dal prossimo anno, l'intero corpo mistico sarà progressivamente coinvolto nell'azione potente di Dio per ricapitolare in Cristo tutta la creazione. A questa azione parteciperanno angeli, santi, uomini e donne, che avranno deciso di servire Dio, la comunione dei santi sarà una forza viva ed operante nell'universo. Ciascuno parteciperà nella misura e nei modi stabiliti da Dio a seconda della sua originalità, anche le anime del purgatorio avranno la loro parte in tutto questo. L'azione di Dio sarà più potente e metterà progressivamente e definitivamente in crisi Lucifero ed i suoi seguaci, sulla Terra come su altri pianeti. Per questo Dio ha bisogno di un popolo sul quale contare, fedele ed obbediente alla sua volontà, sul quale potranno essere riversate grazie abbondanti e sempre più potenti. Il popolo di Dio comincerà a vivere la comunione universale. Ciò significa che le umanità, che vivono su pianeti diversi, a poco a poco, si incontreranno e si uniranno fra loro fino a formare un popolo solo il popolo di Dio, stretto attorno al suo pastore e maestro, Gesù Cristo, che lo guiderà fino alla nuova creazione. Questa comunione fra le diverse umanità si svilupperà gradualmente, e renderà l'azione di Dio sempre più rapida. Infatti, il popolo di Dio sarà composto da veri figli, obbedienti al Padre, che eseguiranno prontamente i suoi comandi e metteranno in pratica le sue leggi. Fino ad oggi, avete visto il comportamento della vostra umanità, in buona parte egoista, ostile a Dio e contraria alle sue leggi, vi siete abituati alla lentezza con la quale questa vostra umanità risponde agli inviti di Dio. Non conoscete il comportamento di altri uomini dell'universo, fedeli a Dio, i quali non hanno altro desiderio, chiamare e servire Dio perché rifiutano l'egoismo, ed obbediscono prontamente al volere divino. Questi uomini entreranno in comunione con voi e lavoreranno con voi, fianco a fianco, per il regno di Dio. In tal modo, l'azione di Dio e del suo popolo saranno sempre più veloci. Questo popolo sarà sempre più unito agli strumenti straordinari di questo tempo angeli, nucleo centrale, fratelli e sorelle dell'universo fedeli a Dio. Questo permetterà al popolo di partecipare pienamente all'azione di Dio e di essere protetto. Dio provvederà a svelare progressivamente l'opera di tali strumenti, rendendola sempre più visibile, affinché il cammino del popolo sia sempre perfettamente orientato verso Gesù Cristo, e la sua azione sia incisiva e unanime. Tutto il cammino compiuto dalle diverse umanità dell'universo in questi anni, è servito come preparazione alla missione, che attende il popolo di Dio negli anni che verranno. A partire dal prossimo 2013, tutti coloro che, in questi anni, hanno accolto pienamente Gesù Cristo come figlio di Dio e Salvatore, e hanno deciso di servire fedelmente Dio, offrendo a Lui la vita per mezzo di Maria Santissima, saranno chiamati a far parte del popolo nuovo. Questo popolo sarà mandato in missione in tutto l'universo ad annunciare Gesù Cristo. Inizierà così la grande missione universale della Chiesa, cioè del popolo di Dio. Nessuno fermerà questa missione. I figli di Dio percorreranno l'universo per cercare e salvare ciò che era perduto, e riportarlo a Cristo, affinché Cristo lo riconduca al Padre nella potenza dello Spirito Santo. Il sacerdozio regale del popolo sarà portato alla pienezza. Saranno dati a questo popolo nuovi pastori secondo il cuore di Cristo. Ogni uomo e donna di buona volontà, in ogni angolo dell'universo, sarà raggiunto dall'annuncio della salvezza. Il regno di Lucifero comincerà a vacillare, i figli delle tenebre saranno lasciati da parte e non potranno più ostacolare il cammino del popolo di Dio. Prima, però, si combatterà una grande battaglia tra i figli della luce ed i figli delle tenebre. Lucifero farà di tutto per sedurre il popolo di Dio e per deviarne il cammino ma dovrà soccombere di fronte alla forza della comunione dei Santi. Tanto più il popolo sarà sicuro e forte, tanto più i tempi saranno abbreviati. Tutto ciò che il Figlio di Dio ha annunciato e predetto dovrà compiersi nel suo popolo santo. Egli è l'Alfa e l'Omega ciò che in Lui è iniziato, in Lui si compirà. Dio Altissimo mi ha chiesto di essere a capo del suo popolo in questo tempo, di radunarlo da ogni parte dell'universo e di condurlo a Gesù Cristo, di proteggerlo dal male e custodirlo nelle leggi di Dio. Il mio compito è quello di aprire continuamente la strada a ciascuno di voi all'intero popolo di Dio, affinché sia più spedito il cammino verso Gesù Cristo. Dio ha voluto che fossi a capo anche degli strumenti straordinari di questo tempo. Ho accettato il mio compito per amore di Dio e del suo popolo, e lo adempierò con tutte le mie forze. Sono il precursore della venuta gloriosa di Cristo, per preparare i vostri cuori ad accoglierlo nella sua potenza. Per questo vi richiamo ancora una volta ad una ferma decisione per Gesù Cristo, affinché io possa contare sulla vostra piena collaborazione. Invito tutta l'umanità della Terra, i capi dei popoli e delle religioni a riconoscere Gesù Cristo come figlio di Dio e Salvatore, e a sottomettersi al suo potere e alla sua autorità. Invito particolarmente i cristiani della Terra a superare le loro divisioni e a mettersi umilmente a disposizione del piano di Dio per questo tempo a quello di ricapitolare in Cristo ogni cosa in cielo e in terra. Invito il Papa e tutti i pastori delle chiese cristiane a nutrire e proteggere la fede del popolo con l'offerta piena della loro vita, a richiamare incessantemente i fedeli all'integrità della vita e della fede. Li invito a custodire con coraggio il greggio loro affidato di fronte ad ogni assalto del male. Le cose che vi ho annunciato si compiranno nei modi e nei tempi stabiliti dal Signore e dell'Universo. Tocca a ciascuno di noi mettersi in cammino verso ciò che ci attende e che è nel pensiero di Dio, il quale predispone ogni cosa per il bene dei suoi figli. Tocca ad ognuno fare la sua parte con serietà, responsabilità e amore. Tutto ci sarà dato e non mancheremo di nulla. Ognuno di voi saprà con sicurezza ciò che dovrà fare perché ogni cosa vi sarà rivelata al tempo giusto e nel modo giusto, e ciascuno sarà guidato dallo Spirito Santo in modo sublime. Stiamo per entrare nei tempi straordinari, quali l'umanità non ha mai conosciuto. Perciò vi chiedo ancora un volta di offrire la vita a Gesù attraverso il Cuore Immacolato di Maria. Questa è la condizione indispensabile perché si realizzino per ciascuno di voi le promesse di Dio. Vi assicuro la mia preghiera e vi precedo sul cammino. Le mie schiere angeliche che vi affiancheranno, gli strumenti straordinari di Dio vi sosterranno. La mia benedizione scenda su ciascuno di voi e su tutto il popolo di Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.